Bene ragazzi, qui è Pietro Spataro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi post partita di Juventus-Monza al partito di Coppa Italia finita 2-1 per la Juventus. Che dire, una bella partita da entrambe le squadre nel primo tempo e poi meglio la Juve nel secondo tempo. Ad esempio il possesso da quando è andato sotto il Monza, ha provato ad attaccare, mentre la Juventus ha chiuso tutti gli spazi per ripartire in contropiede e farli male. Dunque, il gol di Moise Kenne è stata una splendida azione di Sule e poi di Fagioli. Sule fa un dribbling, lo passa a Fagioli, Sule fa una bella giocata, parte lui in contropiede, serve Weston McKennie, un bel cross, bello pennellato, colpo di testa di Moise Kenne ed è gol. 1-0 Juve. Prima dell'1-0 della Juventus c'è stata un'azione, quello di Fagioli, il tiro di Fagioli fuori di poco. Sporcato dal difensore del Monza. Poi dopo l'1-0 ha pareggiato il Monza con Valotti su calcio d'angolo, era... Corpani, se non vado errato. Colpani, Colpani. Sì, sì. È rimasto giustamente in equilibrio sull'1-1. Come ben potete vedere. Hanno giocato entrambi alla pari nel primo tempo. Poi nel secondo tempo con i cambi ha deciso la partita la Juventus. Con l'ingresso in campo di Federico Chiesa e Di Maria hanno cambiato la partita della Juventus e ha vinto la partita. Arrivederci e grazie. Chiesa a sinistra, Di Maria a destra, arrivederci e grazie. Chiesa deve sempre giocare a sinistra perché è quello il suo ruolo. E Di Maria sempre a destra perché è mancino Di Maria. E Di Maria, avete visto anche voi, stava facendo gol di Rabona. Se segnava di Rabona, veniva giù lo stadio. Comunque, in difesa a Rugani e Gatti mi sono piaciuti. Anche Danilo. Certo, è stata 3-5-2 la formazione. Con i giovani fagioli. Miretti mi ha deluso ancora una volta. Mannaggia la miseria. Sulle mi è piaciuto. Il Link Junior pure mi è piaciuto, classe 2003. In quella fascia ha giocato anche lui, bene. Gli do un 6-5 di stima, come fagioli. Miretti, 5-5. L'unica nota stonata di questa partita. Poi, Alessandro, appena entrato, avete visto che gli ha regalato un angolo al Monza? Ha solo svirgolato, secondo me. Non so. La voleva spazzare... Non so se la spazzava di destra o no. So bene che non è il suo piede. Il sinistro è il suo piede, però. Comunque, difesa molto attenta e mi è piaciuta. Ragazzi. Chiesa al centro del villaggio. Dopo un anno torna a segnare Federico Chiesa. Uno dei calciatori più importanti della Juventus. Si vola ai quarti di finale dove affronteremo la Lazio. Nella parte del Talbellone, certo, c'è Inter Atalanta. L'altra parte del Talbellone. Poi, la seconda parte del Talbellone c'è Fiorentina-Torino e Roma-Gremonese. Milan e Napoli sono usciti come dei polli, guarda, dalla Coppa Italia. Questa competizione è pure importante. L'ho sempre detto. Comunque, ragazzi. Spero che vi sia stato chiaro. Ora testa all'Atalanta domenica. che lo vedo molto in forma, questa squadra. Con Heuildi, quell'attaccante molto giovane che mi impressiona. E poi il Lockman. E basta. Ragazzi, spero che il mio video vi è piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se siete già iscritti, cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video.